Musica Nuove aperture programmate per altre attività commerciali lunedì prossimo intanto appaternò il comune stanzia 112 mila euro come sostegno agli operatori economici. Il fronte dei servizi sociali anche in questa fase 2 resta il più caldo, i comuni si apprestano ad allargire i fondi per i buoni spesa della regione. Calano i contagi e diminuiscono nettamente le persone positive. Oggi in Italia sul fronte coronavirus quasi 5.000 i guariti in Sicilia, solo 8 nuovi contagi e 102 i guariti, nessun decesso. Ad Adrano continua l'attività di controllo del territorio da parte degli agenti del locale commissariato di polizia. Ricorre oggi il 74esimo anniversario dell'autonomia siciliana, un compleanno diverso dal solito in tempi di Covid-19 per celebrare questa ricorrenza realizzato dalla regione un video che mostra alcune delle meraviglie dell'isola. Il 23 maggio, giorno dell'anniversario dell'uccisione del giudice Giovanni Falcone, si avvicina e nonostante le restrizioni rese obbligatorie dal coronavirus, la città di Paternò si prepara a ricordare il magistrato con un evento a distanza reso pubblico tramite piattaforma online. Buonasera e ben trovati per questo nuovo spazio con le informazioni di Ciac Tele Sud che in apertura dedichiamo alle attività commerciali che ripartono in questa fase 2. lunedì è prevista la riepertura per altre attività commerciali, intanto per queste si attendono le linee guida della regione siciliana. Intanto il comune di Paternò ha stanziato 112 mila euro come sostegno agli operatori economici. Vediamo. Si riparte pian piano, le attività economiche riprendono a vivere. Lunedì dovrebbero ripartire parrucchieri, barbieri, centri estetici, ripartenza programmata anche per i venditori ambulanti, non alimentari e attività commerciali di calzature e abbigliamento. Riaprono anche i ristoranti e i pub. Per capire nei dettagli come si deve agire però si attendono ancora le linee guida da parte dello Stato. Ed intanto le amministrazioni comunali si organizzano per andare incontro alle attività commerciali con piccoli sostegni. A Paternò l'Aggiunta ha approvato una delibera per rimodulare in urgenza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno in corso, spostando alcune somme. In particolare è stato deciso di approfittare di una disposizione prevista con il decreto legislativo del 17 marzo scorso, con il quale è possibile rinviare al prossimo anno il pagamento della quota capitale dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni con il risparmio di spesa da destinare all'emergenza Covid-19. La somma complessiva destinata dal Comune di Paternò ammonta poco più di 112.000 euro da destinare agli operatori economici. In dettaglio poco meno di 45.000 euro sono le somme destinate per gli artigiani e le piccole e medie imprese, mentre poco più di 67.000 euro sono le somme per gli operatori commerciali. Come si legge in delibera, il contributo verrà erogato solo agli operatori commerciali che esercitano la loro attività in locali in affitto con contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. L'attività inoltre, sempre come previsto in delibera, deve essere registrata all'Ufficio Comunale delle Attività Produttive. Ed intanto, sempre in tema di bilancio, l'assise civica è stata convocata dal Presidente Filippo Sambataro per martedì prossimo alle ore 17 per l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2018. È il primo Consiglio Comunale che si tiene dall'emergenza Covid-19. Restando a Paternò, intervento del Vice Sindaco Ezio Mannino del partito di Fratelli d'Italia dopo che nei giorni scorsi è stata resa nota la notizia di un nuovo gruppo che nasce denominato l'Alternativa per Paternò dove inizialmente era apparso anche il simbolo di Fratelli d'Italia inserito in questo gruppo per poi scomparire qualche ora dopo. Il Vice Sindaco Mannino dice Non voglio non posso fermarmi a pensare che l'apparizione e la successiva cancellazione del simbolo di Fratelli d'Italia impropriamente utilizzato all'interno di una pagina Facebook sia meritevole di alcuna analisi politica, né tantomeno sintomo di un partito che segue due direzioni ostinate e contrarie. Piuttosto sono certo che qualcuno preso dal momento infelicemente gioioso possa aver pensato senza consultare alcun dirigente di partito di poter disporre a proprio uso e consumo della fiamma tricolore simbolo di un passaggio di consegne nel momento del commiato di Giorgio Almirante alle nuove generazioni. Ritengo, continua il Vice Sindaco Mannino, che creare l'alternativa sia sempre legittimo ma l'azione con la quale questa origine è figlia della contrapposizione e non della legittima capacità di esprimere idee e capacità di operare se non contro qualcuno e spesso perdendo il principio della razionale ragionevolezza. E ancora parliamo di paternoi, la fronte dei servizi sociali anche in questa fase 2 resta il più caldo i comuni si appressano intanto ad elargire i fondi per le famiglie messi a disposizione dalla Regione. Le attività commerciali ed economiche dei diversi territori ripartono anche se restano le difficoltà per molte famiglie. La ripartenza non è facile, va sostenuta ed accompagnata con interventi mirati sia sul fronte delle attività economiche che con interventi diretti alle famiglie. Su quest'ultimo fronte, quello sociale, le diverse realtà territoriali del comprensorio sono pronte a mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà i fondi destinati dalla Regione. A paterno si attende il bando con relativa domanda per poter assegnare la prima trancia di somme destinate dall'ente regionale. Si tratta in questa prima fase di 288 mila euro che prioritariamente verranno elargiti a quei nuclei familiari che pur avendone diritto non sono rientrati tra i beneficiari dei buoni dello Stato per carenza di somme. A bel passo invece il Comune ha rieperto i termini del bando per l'assegnazione dei buoni spesa con fondi dello Stato grazie al fatto che sono rimasti in fondo cassa 47 mila euro. Da qui si attende nei prossimi giorni la stesura e la pubblicazione del bando per i fondi della Regione. A Ragalne invece è già in pubblicazione il modulo per richiedere buoni spesa finanziati dalla Regione siciliana attraverso il Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020. È possibile scaricare la domanda dalla sito internet del Comune oppure si può ritirare presso gli uffici dei servizi sociali dell'ente. Si ricorda che il modulo va inoltrato entro le ore 12 del prossimo 25 maggio. I buoni spesa della Regione saranno validi per l'acquisto di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestiche bombole del gas. Restando in tema buoni spesa, anche gli altri comuni a giorni dovrebbero pubblicare i bandi per dare alle famiglie la possibilità di accesso a questo nuovo sostegno economico. E adesso una notizia di cronaca. Alle 13.45 di oggi due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale del distaccamento dei vigili del fuoco 10 Reale sono intervenute per l'incendio di un auto articolato avvenuto all'interno della galleria Pietro dell'Ova della tangenziale S in direzione Messina, tra lo svincolo di Gravina e i caselli di San Gregorio. Il mezzo pesante trasportava bancali di legno ed il conducente si è fortunatamente riuscito a mettere in salvo. È stato necessario l'intervento di due autobotti di rincalzo dalla sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco e di un ammezzo logistico per gli autorespiratori, considerato che l'incendio si è sviluppato in galleria. Spente le fiamme, le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno assistito il personale dell'ANAS per le attività di ripristino della careggiata e per la circolazione dei veicoli. Ad un primo sopralluogo di verifica l'impianto elettrico della galleria risulta danneggiato dal calore prodotto proprio dall'incendio. E adesso parliamo di Covid-19 dal punto di vista sanitario. Calano i contagi e diminuiscono nettamente le persone positive sulla fronte coronavirus in Italia. Quasi 5.000 sono intanto i guariti. In Sicilia si registrano soltanto 8 nuovi casi di contagio e 102 guariti, nessun decesso. Diminuiscono rispetto ieri i contagi, le persone attualmente positive. I decessi si sono abbassati e sono aumentati i guariti. Questo in sintesi il bollettino di oggi in Italia sul fronte coronavirus dove i tamponi sono stati oltre 68.000 con un rapporto tra tamponi fatti e casi individuati dell'1,4%. I contagi, come detto, rispetto ieri sono diminuiti, oggi 789, ma quasi 300 di questi sono in Lombardia. Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è adesso di 223.885. Boom di guariti nelle ultime 24 ore sono state 4.917 le persone che hanno sconfitto l'infezione, portando il totale a 120.005. Anche oggi diminuiscono le persone attualmente infette. La decrescita è stata importante per la precisione di 4.370 assistiti, 72.070 positivi, ma l'84% di questi, cioè 60.470, sono asintomatici in isolamento domiciliare. 10.972 meno 661 i pazienti rispetto ieri sono ricoverati in ospedale. 808 meno 47 rispetto giovedì in terapia intensiva. Resta alto il numero dei decessi, oggi 242, ma comunque inferiore rispetto a ieri, quando le vittime erano state 262. 31.610 le persone morte in Italia con e per coronavirus. In Sicilia solo 8 nuovi contagi e calo importante degli attuali positivi. Oggi meno 94, che portano il totale delle persone attualmente infette a 1.760. 209 meno 6 rispetto giovedì sono ricoverate in ospedale. 11 meno 1 rispetto ieri in terapia intensiva, ormai prossima allo 0. 1.551 meno 88 rispetto ieri, invece, in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. 102 negativizzate all'infezione oggi in Sicilia per un totale di 1.351 guariti. 0 i decessi nelle ultime 24 ore. Restano dunque 263 morti nell'isola da inizio pandemia. 1.792 tamponi refertati oggi in Sicilia. 112.929 il totale. Nella provincia di Catania solo due casi in più rispetto ieri per un totale di 691. 59 le persone ancora ricoverate nella provincia Etnea. 273 guariti e 95 decessi. Catania dunque la provincia con più casi e quella con più guariti e morti a causa dell'infezione. Ancora una notizia, l'Assemblea dei giornalisti dell'ANSA ritiene irricevibile il piano prospettato dall'azienda per recuperare gli ipotizzati minori ricavi legati all'emergenza Covid-19. Le misure avanzate comprometterebbero gravemente la capacità dell'ANSA di assicurare un notiziario qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze del Paese in un momento in cui il ruolo dell'informazione è quanto mai essenziale. L'Assemblea dei redattori dell'ANSA ha indetto uno sciopero di 48 ore a partire alle 7 di questa mattina proclamando lo stato di agitazione. Lo sciopero perdurerà fino alle ore 7 del prossimo 17 maggio. E ad Adrano continua l'attività di controllo del territorio da parte degli agenti del commissariato di polizia. Abbiamo chiesto un primo bilancio dei controlli anti-Covid alla dirigente del commissariato della polizia di Adrano, Paolo Leone. Vediamo. Ad Adrano continuano i controlli delle forze dell'ordine nell'ambito dei provvedimenti per il contenimento della pandemia. Controlli che ogni giorno impegnano anche le pattuglie della polizia di Stato. Abbiamo chiesto se è possibile fare un primo bilancio al dirigente del commissariato di polizia di Adrano, il dottore Paolo Leone. Sì, certo che possiamo fare un primo bilancio. Abbiamo fatto migliaia di controlli, così come disposti dal signor questore di Catania. Abbiamo controllato tutta la zona di Adrano e dintorni per evitare che la cittadinanza adranita potesse emigrare verso le zone, soprattutto vigne, dove normalmente sono in possesso di case di villeggiatura e dove generalmente si fanno anche delle scampagnate. E devo dire che la cittadinanza adranita ha risposto molto bene alle nostre sollecitazioni, ai nostri inviti a non lasciare il comune di Adrano e ad evitare che si facessero scampagnate, soprattutto nei giorni di festa. Mi riferisco in particolar modo alla Pasquetta, il 25 aprile e il primo maggio. I controlli continuano in questi giorni, non si sono mai fermati, rivolgendoci a chi ci ascolta, cosa possiamo dire in vista anche del ritorno alla normalità? In questa fase 2 i controlli sono soprattutto diretti ad evitare che si creino assembramenti, soprattutto presso gli esercizi commerciali che adesso stanno cominciando a riaprirsi, vedasi i bar e i ristoranti che possono effettuare attività di asporto. Quindi noi siamo sempre presenti sul territorio in modo tale di sciogliere eventuali assembramenti che si potessero creare non solo davanti agli esercizi commerciali, ma anche davanti alle banche o alle poste. Quali consigli possiamo dare, dottore, a chi ci ascolta per rispettare le regole? Il consiglio che io modestamente mi sento di fornire alla cittadinanza è quello di mantenere le distanze, il distanziamento sociale, soprattutto un paio di metri. In modo tale da evitare possibilità di contagio in questa fase 2 dove si sta misurando quello che potrebbe essere poi l'evoluzione futura che ci potrebbe consentire di passare all'auspicabile fase 3. Lei qui a Dadano da non più di otto mesi ha dovuto gestire una situazione non certo semplice. Come avete vissuto voi poliziotti all'interno del commissariato questa emergenza? Noi abbiamo vissuto con abnegazione i servizi volti al contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid. All'interno del commissariato ovviamente noi adottiamo tutte le misure di cautela così come previste dal decreto legislativo 81-2008, dalle direzioni centrale di sanità, dalle recenti circolari emanate dal signor Questore, che stabiliscono le cautele che bisogna adottare in ufficio per evitare la possibilità di contagio, vedersi il distanziamento delle postazioni di lavoro, l'alternanza fra entrata ed uscita, l'eventuale utenza, ed evitare anche che si possano accalcare in uno stesso punto più dipendenti del commissariato. E adesso ci fermiamo per la pubblicità. A dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali. Garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiave in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore. E la vita continua. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo, sempre Euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77, oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Energreen Power. Contrada tre fontane. Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Rientriamo in studio e vi parliamo della ricorrenza di oggi per il 74esimo anniversario dell'autonomia siciliana. Un compleanno diverso dall'assolito in tempi di Covid-19. Per celebrare questa ricorrenza è stato realizzato dalla ragione un video che mostra alcune delle meraviglie della nostra isola. Vediamo. 15 maggio 1946, 15 maggio 2020. Sono trascorsi 74 anni dall'autonomia siciliana. Il re Umberto II attribuì proprio il 15 maggio del 46 lo statuto speciale alla regione Sicilia, conferendole così l'autonomia politica, legislativa, amministrativa e finanziaria, ancora prima della nascita della Repubblica Italiana. La Sicilia divenne dunque così la prima fra le cinque regioni a statuto speciale. Un compleanno di sicuro diverso dal solito quello di quest'anno per la regione Sicilia, a causa dell'emergenza sanitaria mondiale legata al Covid-19. Un periodo difficile e delicato, fatto di apprensione e di sacrifici. Un periodo caratterizzato anche da un impegno forte e costante, con l'obiettivo di tutelare la salute di tutti e da tanta voglia di superare questa situazione di emergenza. In occasione di questa giornata così importante, l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla ha voluto rivolgere un messaggio agli studenti siciliani. Oggi si celebra la nostra storia, il nostro patrimonio artistico e culturale, le nostre tradizioni e la nostra capacità di custodirle ed alimentarle nel tempo. L'identità siciliana vive anche nelle tante eccellenze presenti nella nostra regione e sparse per il mondo, uomini e donne che con il loro sapere, il loro lavoro, la loro dedizione rendono quotidianamente onore alla Sicilia. Oggi in particolare, ha affermato Lagalla, il nostro grato pensiero è indirizzato ai medici, agli infermieri, ai ricercatori, ai volontari che lottano contro la pandemia da Covid-19. Di questa Sicilia siamo fieri e da questa Sicilia solidale e forte ripartiamo con rinnovata speranza e motivata fiducia verso i giovani che la scuola prepara a divenire protagonisti del domani. Attraverso un emozionante video che mostra le meraviglie della Sicilia sulle note dell'intermezzo della cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, la regione ha deciso così di rendere omaggio a questo 74esimo anniversario. L'intermezzo dell'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni sul tetto del pronto soccorso del Policlinico di Catania è l'iniziativa della regione siciliana in collaborazione con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini e l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodolico Vittorio Emanuele San Marco che in occasione del 74esimo anniversario dello statuto ha voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini della sanità dell'isola impegnati nell'emergenza coronavirus. Così il quintetto Sicelicos, formato da professori d'orchestra del Teatro Bellini di Catania, ha dato vita alla performance dall'intermezzo di Cavalleria rusticana, trascrizione per archi di Giuseppe Giacalone che ha sorpreso pazienti e personale in servizio diventati spettatori di una rappresentazione sicuramente unica. L'esibizione è diventata una videoclip pubblicato sui profili social della regione siciliana. È il prossimo 23 maggio, il giorno dell'anniversario dell'uccisione del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Amorvillo e degli agenti della scorta. La data si avvicina e nonostante le restrizioni rese obbligatorie dal coronavirus, la città di Paternò si prepara a ricordare questa giornata con un evento. Vediamo. Il 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone perdeva la vita in un attentato mafioso ordito sull'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo. I 500 kg di tritolo nascosti in un tunnel all'altezza dello svincolo per capaci vennero fatti esplodere al passaggio delle cinque macchine della scorta, causando la morte del magistrato Francesca Amorvillo, degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. E' di quel giudice Giovanni Falcone che con il suo lavoro e la sua inflessibile dedizione al servizio dello Stato era riuscito a mettere in ginocchio quel mostro chiamato mafia. Come ogni anno la città di Paternò si appresta a ricordare uno degli uomini che hanno scritto la storia recente della Sicilia e dell'Italia. Quest'anno il Covid-19 impedisce la realizzazione di ogni evento che, inevitabilmente, preveda degli assembramenti. Per questo le associazioni paternesi del coordinamento Paternocè hanno proposto un modo alternativo per ricordare il giudice Giovanni Falcone. Sabato 23 maggio, alle ore 17.57, stessa ora in cui si consumò la strage di Capaci, presso Palazzo Alessi alcuni volontari esporranno uno striscione raffigurante l'immagine del magistrato. Proprio per impedire la formazione di assembramenti, il Comitato invita tutta la cittadinanza a partecipare restando a casa ed esponendo dei propri balconi, dei cartelloni, degli striscioni o anche dei semplici lenzuoli bianchi in segno di rispetto e partecipazione. Verrà ovviamente creato un link per permettere a tutti di seguire comodamente da casa, tramite il proprio computer, tablet o telefonino, la commemorazione. Sarà altresì possibile interagire, confrontarsi e scambiarsi un abbraccio virtuale. Per restare aggiornati sull'evento e per maggiori dettagli, basterà seguire la pagina Facebook del Comitato Paterno C'è, presso la quale si invitano tutti coloro che volessero a inviare le foto degli striscioni e dei cartelloni preparati. Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Coronavirus o meno, l'Italia è pronta a raccogliere l'eredità di Giovanni Falcone. E chiudiamo con un'ultima notizia. Lutto nel mondo della musica è morto a 48 anni Ezio Bosso, il pianista e direttore d'orchestra che da anni soffriva di una malattia degenerativa. L'artista era stato operato nel 2011 per un tumore al cervello dopo il quale gli era stata diagnosticata una malattia che con il tempo ha compromesso l'uso delle mani. Bosso era nato a Torino il 13 settembre del 1971 e il 20 giugno dello scorso anno era stato nominato cittadino onorario di Roma. Nonostante le malattie ha continuato a suonare, comporre e dirigere successivamente nel settembre del 2019 il peggioramento della malattia che ha costretto Bosso ad interrompere l'attività di pianista. Oggi, come detto, la triste notizia della sua morte. Noi lo vogliamo ricordare così mentre dirige un'orchestra. E sulle immagini del maestro Bosso io vi saluto vi auguro una buona serata e una buon fine settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.